Grazie a tutti per essere oggi qui. Io ringrazio i miei capi per avermi dato questa fiducia di poter rappresentare gli studenti a livello provinciale. Perché è importante iniziare subito dalle scuole? Secondo me è importante perché essendo giovani c'è più possibilità di diffusione delle nostre idee all'interno della scuola. Purtroppo io essendo studente ho trovato comunque difficile dialogare con i vari studenti all'interno della scuola perché comunque ultimamente i nostri istituti stanno sempre diventando sempre di più qualcosa di chiuso che non lascia una certa libertà di pensiero. Credo che sia importante andare a votare il 4 dicembre perché è da tempo che comunque noi studenti ne risentiamo anche a livello scolastico date grazie alle varie riforme che hanno concesso sempre meno libertà ai studenti. Io faccio parte del movimento Giovani Padani da circa un anno e sono anche da circa un anno rappresentante del mio istituto a livello giovanile alla consulta. Come ho potuto notare purtroppo questi giochetti sporchi che avvengono sia in politica avvengono anche all'interno della scuola, in primis anche in consulta. e infatti quest'anno, che è il mio ultimo anno di superiori, spero appunto di portare un'ondata positiva all'interno delle scuole anche già solo a livello appunto cittadino o comunque a livello provinciale. Spero di poter dare il meglio di me e ringrazio tutti ancora di essere qua oggi.